Allo stacco, Nelda Gradoville impegna Olaria Mede GSM, poi Ottone Getta e Issa e Nothing, quindi Onyx a match e Orante Spin. Sfila Nelda Gradoville all'imbocco della prima curva su Olaria Mede GSM, 15 il lancio in terza posizione, c'è Ottone Getta, largo Issa e Nothing, poi Onyx a match e Orante Spin. In ultima posizione, soltanto Issa e Nothing a navigare per corsi esterni dopo 400 metri in 39, Nelda Gradoville in evidenza dopo mezzo giro, seguito da Olaria Mede GSM, Issa e Nothing, poi Ottone Getta, più arretrati Onyx a match e Orante Spin. Completamento dei primi 600 metri in l'ordine del 46,2, il terzo paletto in 15,3. Allora, passo costante adesso con al comando Nelda Gradoville, accompagnato da Issa e Nothing, che offre punto di riferimento a Ottone Getta, 15,1 impiegata, 1,1 e 3, il mezzo miglio iniziale. Da 1,16 e mezzo si viaggia a 1,100 alla conclusione, Nelda Grado in vantaggio Issa e Nothing a largo. Poi Olaria Mede, Ottone Getta, Onyx a match e Orante Spin, dopo mille metri addirittura in 1,15 e 7. Davanti alle tribune, 14,4, è andato via un po' di gas Nelda Gradoville, che prova a farla pesare Issa e Nothing, il quale punsecchiato col frustino, cerca di non perdere il contatto. Ottone Getta sposta in terza ruota, 15,5 il paletto e 3 in diagonale a 700 al palo, Nelda Gradoville, Issa e Nothing e Ottone Getta a contatto. C'è Olaria Mede, GSM, Nelda Gradoville, che organizza la difesa, con un'accelerazione in 14,9, Issa e Nothing, che alza a bandiera bianca al mezzogiro conclusivo. Ottone Getta sul passo, Nelda Mede lì acquattata, quando si va all'imbocco della piegata conclusiva, la frazione di fronte alle tribune in 14,2, due minuti abbondanti il miglio e Ottone Getta, che è preponderante a 300 alla conclusione, l'area media che si affaccia a 200 al palo, in vantaggio, Ottone Getta sull'area media GSM, che rimonta Nelda Gradoville, a 100 alla conclusione, Ottone Getta che ha preso margine a Nelda Gradoville che si difende dall'area media, Ottone Getta che viene a vincere, l'area media GSM è seconda e al terzo posto Nelda Gradoville. 2,30 abbondanti, 29,9 ad arrivare, 1,15,2, il doppio chilometro, la vittoria per il numero 2, Ottone Getta con Sabato Di Vincenzo, il filo di Crowns Imitation servito a dovere in Pariglia esterna, dopo un primo chilometro molto sostenuto, si affaccia in terza ruota, passa, si allontana della media GSM, che rimasta a guardare sia l'ultima curva e buona seconda, al terzo Nelda Gradoville che ci ha provato da leader, per 2, 3, 6, l'arrivo dell'ottava.